... Dottoressa Annalisa Spinelli, Assessora alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, siamo qua a Gezzeria per l'undicesima edizione del Premio Caposuvero. Bene sì, è un'occasione unica, straordinaria, in un luogo veramente suggestivo, che ci ricorda la nostra terra, la nostra Calabria, che ogni anno riesce a premiare le eccellenze del nostro territorio. È un'occasione per ritrovarsi, per riscoprirsi e ogni riscoperta è motivo poi e dissimolo per continuare a dare il meglio per il nostro territorio. Io in particolare avrò l'opportunità di premiare Giussi Princi, che ora è parlamentare europeo e che ha lasciato un'impronta molto importante nel nostro territorio, sia nel mondo della scuola che nell'intera regione.